Il secondo analogamente diventa radice di a che moltiplica a più 2 al quadrato fratto a più 3 al quadrato. Il terzo si riscrive come radice di a al cubo fratto a più 3 al quadrato. Semplificando ogni singolo radicale, l'espressione diventa radice di a che moltiplica a più 1 fratto a più 3 più radice di a che moltiplica a più 2 fratto a più 3 meno radice di a che moltiplica a fratto a più 3.